L'inizio è emozionato per entrambi, c'è la risata del vabbè, ci tocca. Uno pensa, ma che me tocca fa? Ma pensa te. Ciao Alice. Ciao. Ciao, benvenuta sull'Usi. Grazie. È un piacere averti qui. In poco più di dieci anni tu sei passata dallo status di giovane promessa, che in Italia in realtà dura fino a 60 anni di solito, a quello di... Solita. Solita realtà. Il solita realtà del cinema non solo italiano. Sei stata presentata in concorso a Cannes, dove hai vinto dei premi e hai avuto candidature un po' dappertutto, anche agli Oscar, con il tuo cortometraggio di Pupille. Dal 23 novembre al cinema c'è il tuo nuovo film, che è stato appunto presentato a Cannes quest'anno, si chiama La Chimera. È un film molto peculiare, bizzarro, molto bello, che racconta la storia di questo gruppo di tombaroli, il centro Italia, tra i quali spicca un tombarolo particolarmente dotato, non diciamo perché, che si chiama Arthur, che ritorna dal paese dopo essere uscito di Dorigalera, visto che il film è un film bello, ma anche complicato, a me ti senti adesso che finalmente arriva nelle sale italiane. Sono felice, come dire, è un film che è legato allo scavo, allo scavo archeologico, a ritrovare frammenti, pezzi e quindi in qualche modo ora finalmente viene la luce, esce fuori dall'oscurità. È un film anche molto luminoso. Sì, racconta tante cose, perché poi se ci mettiamo un po' nella prospettiva di uno scavo archeologico sono tante le cose da raccontare, dal passato al presente, al rapporto tra questi due mondi. Però principalmente racconta le avventure, le scorribande di questa disgraziata banda di tombaroli e che però vivono in un mondo che è all'inizio degli anni Ottanta, quindi un mondo completamente disilluso in cui c'è ancora un illuso, c'è ancora un eroe romantico che è questo inglese, l'inglese Arthur. Ma tra l'altro, mi sono chiesto, perché hai scelto un inglese, uno straniero per questo film? Sembra uno di quei film di Sergio Leone dove arriva a un certo punto Clint Eastwood, misterioso, poco loquace, tutto un po' trasandato, che sconvolge un pochettino la vita di una comunità che comunque è ristretta e un po' chiusa. Ho scelto uno straniero, che poi è un inglese, però è principalmente uno straniero perché innanzitutto volevo omaggiare questi ragazzi che negli anni passati, parlo proprio del 700-800, scendevano nel Mediterraneo, in Italia, facevano questo tour formativo, il Grand Tour, e si innamoravano di queste rovine, di un volto, di una statua. Ci sono tanti diari, racconti, alcuni famosissimi come il viaggio di Goethe, di Lawrence, alcuni meno conosciuti, però questo loro spirito romantico è in qualche modo ciò che ha anche messo in luce agli occhi delle popolazioni locali qualcosa che è sempre stata parte del loro paesaggio, della loro storia e su cui non avevano mai posto l'attenzione. Quindi sono stati proprio gli stranieri che hanno acceso una luce su queste rovine, questo passato, però posso dire in generale che sempre gli stranieri ci fanno capire chi siamo. Forse ora sono più stranieri che non vengono più dal nord, ma vengono dal sud, ma sono sempre necessari perché ogni volta che arriva uno straniero abbiamo la possibilità di guardare con gli occhi di uno straniero e quindi di sottrarci c'è la visione che sempre vediamo, un po' quello che ci serve. Quindi lo straniero come qualcuno è in grado di svelare una dimensione con una dimensione invisibile, nascosta. Anche il Lazzaro Felice, questo secondo me è un tema che sviluppi in modo molto originale e molto bene. Che differenza c'è tra l'invisibile e il visibile per te da un punto di vista cinematografico? Cioè è come se lo vedessi un pochettino come una missione poetica, no? Io sono cresciuta in un mondo dove gli uomini di notte andavano a tombe e questa era una cosa quasi ormai era consolidata quando io ero piccola, cioè era quasi un'iniziazione maschile andare a tombe, cioè andare a cercare questi reperti. Un po' mi sono sempre chiesta come mai per tutti questi anni, 2500 anni o più, nessuno ha mai toccato niente e poi all'improvviso arriva una generazione che prende tutto, una generazione che non ha paura dell'invisibile perché non ha paura di entrare nelle tombe di notte, rubare le cose perché pensa che appunto ci sono delle sciocche credenze che bloccano le persone nell'appropriarsi di questi tesori. Però questo diciamo è una parte del racconto, dall'altra parte ci dobbiamo chiedere perché nessuno ha mai toccato niente, perché in qualche modo le cose avevano una parte visibile e una parte invisibile, questo è stato sempre così, questo invisibile aveva vari livelli però era potente, addirittura io non vedevo una collana d'oro magari che emergeva sottoterra e normalmente non la prendevo, poi magari c'è sempre stato quello che la prendeva, però non era una cosa popolare. A un certo punto le cose è come se questa loro aurea invisibile si sparisce, è una magia e diventano cose, è come se all'improvviso una nuova generazione si sveglia e dice ma quelle sono solo cose, quindi sono solo merci che chi se ne frega di una parte invisibile. Sono desacralizzate, quindi in realtà questo film racconta quel momento storico, l'arrivo del materialismo e il momento in cui le cose diventano solo cose, lo fa in una maniera anche molto buffa perché dentro questo mondo materialista c'è un'anima persa, un'anima romantica e volevo raccontare due prospettive sulle cose, una prospettiva per cui l'oggetto è solo l'oggetto, è una prospettiva per cui invece l'oggetto è fatto di tanto invisibile, dentro di lui c'è una storia, c'è un passato, c'è un futuro e noi ne condividiamo solo una parte. Guardando il tuo film mi sono chiesto ma Norvaker è più fedele agli oggetti che riprende in primo piano o alle persone? È fedele a uno sguardo, è fedele a uno sguardo che non è né sopra, cioè non è né uno sguardo che cala dall'alto, né vittima di una storia, non è uno sguardo che deve affannosamente correre dietro una storia, è uno sguardo che è lì, è un altro personaggio e questo personaggio quindi si imbatte nei volti, si imbatte nelle cose, però questo personaggio siamo noi, siamo la troupe, siamo noi che siamo lì in quel momento mentre il film accade e cerco di farlo sentire, sono belle le cose fatte a mano, sono belle le cose dove si vede l'impronta di chi le ha fatte anche se penso nella storia, un vaso su cui magari è rimasta, sempre parlando di antichità, però magari quel vaso che è venuto male su cui è rimasto, non so, l'impronta di un uccellino che si era appoggiato su questo vaso meraviglioso mentre asciugava e quanto ci si ricama sopra all'immagine di questo uccellino che è passato su quel vaso, allora ho cercato di fare un film pieno di tracce, è un film che porta l'impronta di chi l'ha fatto, che insomma, ecco. Quindi a secondi molto sul set in realtà, se lo sguardo ti porta da qualche parte? È tutto molto, entrando proprio nel merito del lavoro c'è un grande lavoro di preparazione, c'è sempre la sincerità di assumersi una posizione dentro quella storia e quindi di come dire, di non nascondersi, di dire dove sono io adesso? Che poi è la domanda penso che tutti i registi si fanno, però magari noi non ci rivergogniamo di farcela, quindi ce la facciamo vedere anche. Puoi essere molto brava a dirigere i bambini e i ragazzi. C'è una storia che io non sono convinto che sia vera, però me la sono raccontata ormai in un modo tale che non può che esserlo perché non riescono a ritrovare la fonte, ovvero che chiarostami e tutti i registi di quella generazione a Teran fossero così bravi a dirigere i bambini perché dietro il centro di cinematografia di Teran c'era una scuola e quindi facevano la necessità virtù, prendevano questi bambini e diventavano bravissimi a farli recitare. L'impressione che ho guardando dei tuoi film è che tu mi dici che sei stata in molta preparazione, ma sembra che sia una tale rilassatezza sul set. Come se gli attori assecondassero in qualche modo anche un desiderio ludico di stare assieme. I bambini sembrano divertirsi tantissimo. I bambini mi stanno sempre molto a cuore, cioè ci tengo tanto che non abbiano una brutta esperienza, ma anche che non facciano altri film. Quindi gli consigli della carriera d'attore sul gruppo di film è ripreso. No, scherzo, è una battuta questa perché comunque credo che fare l'attore deve essere veramente una vocazione, una vocazione con cui si lotta anche. È una necessità fare l'attore, ma fare un film invece è una cosa che posso consigliare a tutti, anche a chi non ha una vocazione, ma farne uno. Perché comunque vedere la macchina del cinema, soprattutto per i bambini, è anche una cosa che gli permette di diventare degli spettatori non tanto vittime di certe strategie e noi dobbiamo liberare lo sguardo. E quindi mi piace molto proprio fargli condividere le riprese perché credo che comunque semino un po' di libertà nello sguardo. In questo film non ci sono molti bambini, ci sono tanti uomini che però sono come dei bambinoni. È un film pieno di vitelloni, diciamo, ecco come direbbe Fellini. Anche forse una cosa che aiuta a creare questo clima, non so se aiuta, e questa gioia deriva anche da una sorta di disperazione, perché è quando giriamo un film, spesso sono dei gruppi talmente eterogenei che si vengono a formare per cui tutti devono uscire da un luogo sicuro in cui stanno di solito, dagli attori ai non attori e tutti devono andare da un'altra parte. E quindi è un po' come se si forma una specie di arca di, non posso dire di nuè perché non voglio esagerare, però una specie di barca in cui tutti hanno lasciato qualcosa. Gli attori lasciano qualcosa per salire su questa barca e anche i non attori lasciano molto per salire su questa barca. E quindi in qualche modo ci si accompagna, ecco ci si fa compagnia. Parli di questi personaggi maschili che sono un po' dei mascalzoni, dei vitelloni. Ci sono delle scene in cui in qualche modo questi uomini mostrano tutti i loro enormi limiti, soprattutto nei confronti delle donne, nel modo in cui si approcciano le donne. C'è una scene in particolare che è quella del ballo, in cui a un certo punto nello scherzo diventano aggressivi nei confronti di questa donna. E Arthur è come se si rappropiasse di un certo desiderio nei confronti della donna attraverso questi uomini che li stanno attorno e mostrano la loro gioiosa eccitazione. La cosa molto bella di questa scena è in realtà il modo in cui racconti secondo me questi personaggi maschili che non c'è giudizio. Mi sembra che in realtà tu li guardi veramente come dei poveri adorabili cretini a cui non puoi che ne voler bene alla fine. E mi sembra una cosa molto rara che riuscire a sospendere da registro al giudizio, nel senso vuol dire mettersi al servizio dello spettatore della storia. E questa cosa che per te è naturale, secondo me, non può che avere, immagino che abbia tutto anche una sua costruzione, trovare il giusto modo di raccontare anche una cosa così semplice senza imporre il tuo punto di vista a chi guarda. Forse più che non imporre il punto di vista, perché il punto di vista è abbastanza imposto, però non dare un giudizio per amore. Ecco, perché comunque mi sono cari questi tombaroli e sono d'accordo che sbagliano, che non devono andare a rubarne le tombe. Però quando cercavo un aggettivo per definire questi tombaroli, perché c'è una canzone nel film, la canzone dei tombaroli, e dovevamo cercare un aggettivo e con Valentino Santagati, chi vedrà il film scoprirà che canta, è stato invitato proprio a cantare il film. Abbiamo deciso l'aggettivo poveri, poveri tombaroli. E tutti ci sono rimasti un po' male perché dicevano, ma come poveri? Poveri non sono poveri, sono dei criminali, non sono poveri. Però io volevo proprio raccontare quell'aspetto, quella miseria che è anche dentro a una certa forma di maschilismo, di macismo. L'abbiamo sempre raccontato come una cosa aggressiva, ma è anche una grande miseria. Loro stessi, poverini, sono imprigionati in questo dover essere maschi a tutti i costi, far vedere che tutte le donne straniere sono donne con cui ci provano, che le loro donne le maltrattano tutte, che fanno sempre riferimenti alle lunghezze e che sono sempre ossessionati da qualcosa che in realtà non hanno, da una chimera. Che in realtà questa chimera è una dolcezza, è una relazione vera che loro non riescono ad avere e quindi stanno sempre lì nella prigione del maschilismo. È uscito anche da poco la tua bella conversazione con Goffredo Fofi, Pereo, nella sua collana Piccola Biblioteca Morale. È una conversazione molto bella, piena di domande, di riflessioni che accadono con gli occhi del lettore. C'è una cosa molto interessante che dici, soprattutto i riferimentati ultimi due film, Lazzaro Feliz e la chimera. Cioè che i protagonisti che hai scelto di mettere in scena sono protagonisti che sono pensati per sfuggire in qualche modo l'identificazione psicologica da parte dello spettatore. Cioè chiedere allo spettatore in qualche modo di fare un passo indietro, di non sentirsi il protagonista delle storie che racconti, ma di guardarle un pochettino dall'esterno. Assolutamente. Siamo pieni di storie e di personaggi in cui non possiamo identificarci nella nostra tradizione. Gli eroi dei miti, i protagonisti delle fiabe, Gesù. Cioè diciamo che abbiamo una tradizione ricca di altre possibilità di racconto. E mi sembra che negli ultimi tempi ci stiamo limitando nella nostra possibilità di racconto e quindi anche nella nostra possibilità di spettatori, perché essere spettatori è una grande possibilità di sentire qualcosa, di guardare qualcosa. Sembra che l'unico sguardo possibile sia diventato quello del doversi identificare con un protagonista e quindi mettersi nuovamente al centro della storia se stessi e quindi patire perché si è il protagonista. Spesso ho sentito queste parole, non sono riuscita ad entrare nel film. Ma mica bisogna entrare dappertutto. Non si entra in un quadro di giotto. Cioè ci sono tantissime forme espressive in cui noi non dobbiamo entrare, ma non siamo chiamati a entrare. È già qualcosa che ho cercato un po' di fare con Lazzaro perché io credo che nel guardare da fuori c'è un'altra forma di compassione che è diversa dalla compassione che si ha per se stessi. È una compassione che riguarda una collettività, che riguarda una generazione, l'appartenenza a un pianeta, riguarda qualche altro... è proprio un altro sentimento che vorrei indagare. Però è certo difficile perché ci si muove ormai in un territorio che era super vasto, la geografia del cinema, come se questo territorio vasto fatto di radure, praterie, boschi, foreste e città si stesse uniformando. Forse è quello che accade anche in effetti nel mondo, ma c'è un'uniformità nelle forme narrative anche quando i film si dichiarano diversi. Dal film d'autore al film commerciale si gioca spesso, non dico sempre, non è che io sono l'unica, siamo pieni di registi come me, però la maggior parte gioca sempre la carta dell'identificazione col protagonista. Allora ogni volta che sentivo che rischiavo questa situazione, ho sempre cercato nel film un modo di mandare via lo spettatore, di dire ma no, stai tranquillo, non ti immedesimare troppo, perché non so neanche se questa storia è accaduta veramente. È una cosa che io vorrei dire anche ai ragazzi, è una cosa che io dico a mia figlia, non devi riferire tutto a te e alla tua psicologia, alla tua individualità. A volte si sentono le cose del mondo, si pensano i pensieri del mondo e quindi questa è un'altra forma di dimostrarli. Questa cosa ti viene rispondendo molto bene anche il Lazzaro. La prima volta che ho visto Lazzaro Feliz ho pensato. È molto simile come ispirazione a Awasar Baltasar di Bresson. È l'ultimo degli ultimi, che viene villipeso, sfruttato da tutti e in qualche modo non ha gli strumenti per reagire a questo sfruttamento. Rimarrà sempre l'ultimo, perché ha un carattere mite, perché è gentile, perché è portato all'aiuto nei confronti degli altri al lavoro. Poi mi sono reso conto che una cosa che faceva molto soffrire di Awasar Baltasar erano anche le servizie fisiche nei confronti dell'asinello, mentre in Lazzaro io sa proprio male per le ripercussioni psicologiche dei comportamenti che erano gli altri nei confronti protagonisti. Perché è un'occasione mancata. Allora ho pensato, ma questo non è Bresson e basta. Questo è Bresson e Fantozzi. Perché quel tipo di sentimento di... Sai quando mi riesci a guardare lo schermo perché quello che sta creando è troppo doloroso da un punto di vista psicologico? Io ho provato guardando solo Fantozzi probabilmente con quell'intensità. E ci riconosti Bresson e Fantozzi come referenti di quel film? Perfettamente. Perfettamente. Hai centrato il punto. La domanda è già finita però. Quando la domanda è più lunga della risposta vuol dire che non va bene. No, no, va bene, va bene. Però sono felice che... Perché Fantozzi è proprio un film che riesce a raccontare... È tragico. Mamma mia. Ed è un film su un dramma collettivo. Bresson è come se cercasse sempre una verità estetica, una verità attraverso le immagini. Tu invece mi sembri di cercare in qualche modo non tanto una verità, ma l'errore. Questa cosa la vedo... Sei l'imperfezione. Che ruolo ha l'errore nel tuo modo di fare cinema? Cerco per quanto possibile, e forse mi viene anche un po' naturale, ma non so se è una cosa positiva, di ritrovare quella tensione che abbiamo quando una persona sta per stonare, oppure quando un funambolo... Saper prendereci di due ore. Quando c'è qualcosa che sta per romperci. E poi spero che non si rompa, naturalmente. Quello è un po' il desiderio, no? Cioè di fare dei film che siano comunque oggetti fragili, ma in maniera spavalda e gioiosa, fragili come sono fragili le cose preziose, i gioielli, i bicchieri di cristallo, come le cose più belle in realtà sono fragili, no? Infatti tante volte quando uno dice, è un film fragile, ma è un complimento se pensi al significato prezioso che è nascosto nella parola fragile. E quindi cerco di fare dei film che abbiano quella cosa, forse perché sono un po' stonata, come nella mia vita e ho sempre invece suonato, e forse perché quello sguardo è quello che ho sempre ricevuto, delle persone che mi ascoltavano, dicono ora sbaglia, ora sbaglia, e a riuscire ad arrivare alla fine della canzone comunque. Ma per me non è il bel canto quello che cerco, anche perché credo che non è questo all'epoca del bel canto. Si parla tanto di intelligenza artificiale, di metodi che funzionano, efficaci, macchine. Ecco, forse la cosa che è più mirattrista al mondo è vedere nei giovani la paura dell'errore. L'errore è la cosa più bella che gli possa capitare. Fare una cosa fatta, cioè sbagliata, e che si trasforma nel suo errore diventa un'altra cosa. È una grande possibilità. E invece mi sembra che soprattutto i più giovani sono terrorizzati dallo sbaglio e cercano il film perfetto, il film efficace, il film che funziona, che è un meccanismo perfetto. Ecco, io credo che non sia più il caso. Si possono fare, si sono imperfetti, ma le cose perfette in qualche modo si esauriscono appena passano. Mi piacciono molto come spettatrice i film che ogni volta che vedo sono altri film. Ma secondo te questa ricerca della perfezione, da parte di una generazione come la generazione più giovane, in cui tu sei ancora giovane, non c'è la zona promessa, ma non lo sei più, ma sei ancora giovane. Le persone, secondo me, anche della tua generazione, sono persone che sono crescute non solo con il cinema, ma anche con la pubblicità, il video musicale e la televisione. Cioè delle forme di racconto per immagini colorate, ricche da un punto di vista, probabilmente di composizione, ma anche molto superficiali. In te questa cosa però è molto difficile riscontrarla. Sembra che il tuo cinema sia fatto solo di cinema e di letteratura, cioè che sia all'interno di quei riferimenti. Quindi tante persone che sono della tua generazione, soprattutto quelle più giovani, in realtà cercano, mi sembra a volte, una perfezione formale, ma quella perfezione formale poi è solo una superficie che sotto spesso c'è la grande paura di sbagliare, come dicevi. Forse più che sono film di cinema, ma anche tanto sì, di letteratura, di circo, di spettacolo dal vivo, e di strade e di osservazione di mondo. Ecco, sono film dove c'è tanto di tutto questo. E sono anche, spero, film politici in qualche modo, politici proprio nel senso etimologico del termine, che appunto è un termine molto più vasto che è riferito all'attualità politica, è riferito proprio al senso della polis, dello stare al mondo in una collettività. Parlavamo dei tombaroli, prima i tombaroli sono profanatori di tombe. Tutti siamo d'accordo sul fatto che questa cosa è una cosa sbagliatissima e non va fatta. Eppure loro vivono in un mondo già profanato, da grandi potenze, da grandi tombaroli, non so come dire, comunque da grandi malfattori. Eppure su quegli scandali nessuno si scandalizza. E questo volevo cercare proprio di farlo, imprimerlo nell'immagine, perché non è un pensiero razionale, ma è una mia impressione. Quando i tombaroli mi portavano in giro a vedere i posti che avevano dissacrato, erano posti dove già non abitava il sacro da tantissimo tempo, dove avevano costruito una centrale a carbone sopra una necropoli, una villa romana e una terma romana, proprio dove abbiamo girato, infatti loro trovano il santuario, dove avevano distrutto per creare, non so, poli industriali fantasma sopra rovine del passato. E quindi ero anche un po' stupita in questo viaggio che ho fatto con loro, di vedere quanto si parla della loro profanazione, ma di quanto poco si parla della profanazione che ben più mi interessa, è la profanazione di un pianeta, che anche quello è sacro come dei vasi che sono rinchiusi e custoditi per l'aldilà. Tu conosci la canzone dei cani Wes Anderson che fa i cattivi, adesso stanno io, i cattivi non sono cattivi? Sì, non la posso cantare. No, non cantarla, non cantarla, ho fatto io la figura di quello che non sa la voce. A me sembra, in relazione a quest'ultima risposta che mi dai, che i tuoi personaggi alla fine li vuoi bene, non solo tu, ma lo spettatore non può che vuoi verli bene, ma c'è questa tensione tra i personaggi che mi fanno anche delle cose che possono essere considerate sbagliate, turpi, riprovevoli, però le fanno perché in qualche modo il contesto attorno a loro è comunque pezzo. Quindi è come se tu non si avessi mai coi personaggi, però il contesto è sempre un contesto che tu biasimi molto. Il contesto può essere quello della nobiltà che sfrutta i mezzadri, le banche. Un certo tipo di chiesa. Il capitalismo, la chiesa, l'istituzione in qualche modo. No, un certo tipo, diciamo. Un certo tipo di chiesa. Legato al potere, legato alla proprietà privata, legato appunto al controllo. E qui sicuramente i tombaroli sono solo degli ingranaggi, loro si sentono i predatori dell'arte perduta, per citare un libro bellissimo di Fabio Isman, che vi consiglio caldamente di leggere perché ci dà le dimensioni di questo traffico di archeologia che, raccontato da me, è una storiella di provincia, ma è un mercato più grande di quello della droga, dice lui. Rivela lui in questo libro. Quindi ci dà sia, appunto, loro si sentono questi grandi predatori, ma in realtà sono degli ingranaggi, delle piccole rotelline in una macchina che è alimentata da ben altri poteri. Tu, nella bellissima conversazione con Fofi, dici a un certo punto che la prima volta che hai preso in mano una camera ti sei sentita dalla parte del torto. Volevo chiederti cosa intendevi e se quella condizione è cambiata col tempo. Diciamo che non è cambiata, è peggiorata, nel senso che, soprattutto al giorno d'oggi, in cui si mangiano immagini dalla mattina alla sera, in cui tutti bramano produrre altre immagini, lavorare con le immagini non è che proprio mi sembra la cosa più necessaria del mondo. E quindi è una vocazione, ma anche una condanna, perché mi piace tantissimo come lavoro, ma sempre mi chiedo, ma perché produrre altre immagini in un mondo che è sovraccarico di immagini, in un mondo dove nessuno più fa le cose, ma tutti le filmano, in qualche modo. E quindi il mio primo documentario, fatto insieme a Pierpaolo Giarolo, è nato in realtà proprio per lavorare con Pierpaolo, un po' per caso. È stato un documentario su una famiglia che abbiamo seguito durante due stagioni, una famiglia di un circo. Tra l'altro è abbastanza, è una cosa anche molto ingenua, perché so che il circo è proprio l'alterità che tanti giovani registi cercano. Tuttavia sono così contenta di aver lavorato a quel film, perché il legame che si è formato con questo circo è un legame che va avanti tuttora, tant'è che alcune persone di questa famiglia poi hanno lavorato nella chimera, quindi è stato portato avanti nel tempo. Io in realtà volevo solo stare con loro e mentre filmavamo succedevano anche delle cose che richiedevano una mano, una presenza fisica e quindi mi imbarazzavo tantissimo che in quel momento non potevo andarle aiutare perché stavo filmando e quindi a volte succedeva che proprio lasciavo la camera per... infatti ogni tanto appaio quando per esempio siamo arrivati a Pescara con il circo in un prato pieno di siringhe, io ho lasciato la macchina e sono andata a raccogliere le siringhe e grazie a Pierpaolo quella scena esiste nel film. Cioè, questo per farvi capire una situazione concreta, no? Cioè, in cui arrivano dei bambini, dei cavalli, in un prato di siringhe, non è che mi sono messa a filmare, ho pensato devo raccogliere le siringhe. e questo mi faceva sentire dalla parte del torto perché ero dalla parte di chi non sa fare, perché alla fine chi fa i film è chi non sa fare le cose. Poi però ho capito che invece lavorando a questo documentario in qualche modo c'è stata una rivelazione, la rivelazione che posso fare un'altra cosa, produco una merce, una merce molto particolare, una merce che può essere sguardo e che può cambiare lo sguardo che abbiamo sulle cose. E questo mi sembra comunque un bene di prima necessità. In questo periodo storico, come dicevi tu, si vede assediati dalle immagini. Fare il cinema non è semplice. Però non credi che forse questa potrebbe essere quasi una possibilità di liberazione per il cinema? Cioè, quando un'arte, un mezzo, perché un'arte sembra in crisi, in qualche modo trova la forza di liberarsi, no? Io lo credo tantissimo. Infatti è una cosa che ripeto ossessivamente quando hai giovani o anche... Perché poi quando si fa un film si lavora con un'industria, si devono cercare tantissimi soldi perché ci lavorano tantissime persone e chiaramente chi dà i soldi, chi produce, vuole la storia. E in realtà in un mondo dove ormai c'è così tanta narrazione, forse il cinema può liberarsi si dà l'ossessione della storia e più che pensare a cosa raccontare dovrebbe, può, come ha già fatto in tante epoche, come fa tuttora, ma può farlo di più, chiedersi come raccontare le cose e non solo cosa raccontare. E lì c'è in bocca al lupo per la chimera. Che viva il lupo! Grazie a te e grazie, grazie mille. Grazie mille, grazie a voi.